Signori, bentornati in un nuovo video flash. Giorni fa ha avuto luogo a Roseville, Minnesota, Stati Uniti, il Keyforge Celebration, che, per assurdo, è stato anche il primo evento organizzato ufficiale dedicato unicamente al nostro amato gioco di mazzi, unici al mondo, dal 2018. Abbiamo visto attraverso i vari contenuti streaming dei content creator lì presenti che l'atmosfera è stata magnifica, accompagnata da una voglia di giocare a Keyforge ritrovata dopo il periodo nero dovuto all'Oaiatus promosso dalla FFG. Ebbene, proprio due giorni fa sono arrivati i dati che hanno illustrato in modo matematico l'andamento di tale evento. Con quasi 200 giocatori che hanno fisicamente presieduto alla celebrazione, i tre giorni di tornei senza sosta hanno visto 119 giocatori sfidarsi nel formato Alliance Shield e 57 in quello tradizionale, 38 giocatori affrontarsi in tornei Arconte Shield e 86 in quello tradizionale, con la bellezza di 585 partite giocate in totale, 283 chiavi forgiate, 480 mulligan, 111 partite dove quest'ultimo è stato optato per entrambi i forgiatori, 17 partite decise allo scadere del tempo e molto altro ancora. Cifre davvero interessanti, soprattutto perché l'Alliance Shield ha registrato il torneo con maggiori partecipanti in assoluto e ciò non è assolutamente da sottovalutare come dato. C'è comunque anche il fattore che si tratta di una novità e quindi ci può anche stare che l'hype per il testing l'abbia fatta da padrona. Come sempre comunque, in descrizione vi lascerò i link sia all'articolo pubblicato sul sito ufficiale che al video del canale YouTube della Ghost Galaxy, così che da voi potrete dare uno sguardo, attraverso un piccolo spaccato dell'accaduto, alle varie attività che si sono tenute in questa prima edizione 2022 del Key Forge Celebration. E voi, cosa ne pensate di questa iniziativa organizzata in previsione del grande rilancio del nostro amato gioco di mazzi unici al mondo? Come sempre fatemelo sapere nei commenti, inoltre iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram e TikTok se vorrete scoprire altre notizie provenienti dal croggiolo.